Grazie 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 A questo punto dobbiamo mettere una mano sulla spalla dell'uomo davanti Grazie Dietro, dietro dovete Orte si ricomincia a girare Sì, stiamo ballando, la stai pronta? Sì, stiamo ballando. Sì, stiamo ballando. Adesso giriamo il giro, mettiamo le donne al centro e lì giriamo nella parte in posta. Loro sono le donne che mettono la mano sulla spalla delle donne davanti e saranno l'unico a battere le mani mentre noi andiamo a cercare una dama nuova. Non vi stagliate il verso! Le donne sono al centro! Cercare una donna nuova! Forza! Forza, forza! Mi hanno rubato la ballerina! Girare questo è l'ultimo giro! Sono l'ultimo passaggio! Laschalentare! Datta che sei. Bene, facciamo un grande applauso a tutti i vostri amici che hanno imparato due balli popolari e questo ultimo addirittura è un stand polka, un ballo popolare dell'Austria Allora a questo punto